Sì, senza dubbio. Non c'è proprio alcun dubbio. Video di adesso. Altre mail. Altre mail. Di chi? Magistrati. Vogliono il bene del paese o puntini puntini il male del governo o puntini puntini gli piace solo comandare? Eh? Spiegatemi un po' voi. Io non ho risposta. Vogliono il bene del paese o il male del governo? Ragà, la cosa è uguale. Non è che mi sono invitata di sana pianta. Cioè, ho visto gente pagata a gettoni di presenza. Valada, su Mediasetrecchia. Vogliono il male di questo governo. Oppure vogliono il male del paese. è la stessa cosa, è la stessa cosa, è la stessa cosa, è la stessa identica cosa. Identica. Mo', è stato scoperto sto paternoster, no, paternoster è un corno, però comunque sto, sto, sto pagistrato qua, va là, che ha detto, eh, magistrati come me, mi raccomando, uniamoci, facciamo veramente fuori la meloni, politicamente parlando, perché è peggio di Berlusconi. E avete visto che Berlusconi cosa poteva fare? C'è qui veramente gente che sapeva Berlusconi al comando cosa faceva anche quando non era presidente del Consiglio, come altre mail. Sì, anche quando non era presidente del Consiglio sapevamo cosa aveva fatto Berlusconi. Facciamo la stessa cosa. Altre mail di questo calibro, altre mail che mano a mano verranno sempre più scovate probabilmente. e la meloni nel frattempo addirittura due video messaggi, due, due in un giorno, se tutto va bene ne fa uno al mese, due in un giorno. Parecchio scottata mi sa, eh, parecchio scottata, molto. Andare avanti o no, secondo voi, per la meloni, se foste nella meloni? A voi nei commenti. A voi nei commenti.